Riprendiamo la linea al 71esimo Cosimo Chirico di equilibrio alla gara mandando in rete alle spalle del portiere D'Agostino e così praticamente il risultato è cambiato ancora una volta allo stadio Ezio Scida con in questo momento le squadre che stanno sull'1-1 nel frattempo era entrato anche Gomez al posto di Bernardotto e quindi fino adesso i cambi sono tre per gli squali 1-1 linea allo studio